Esperienze e punti di vista diversi ancora, vivere una situazione di disagio all'interno del proprio gruppo consigliare. Con questa motivazione Giordano Molteni, candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni amministrative, attuale consigliere comunale con Fratelli d'Italia, ha annunciato l'intenzione di lasciare il partito e passare al gruppo misto. Sono stato il candidato sindaco di una coalizione e oggi mi trovo a fare il consigliere comunale di minoranza. Sono partito con la volontà di mettere impegno per il bene della città, ma devo fare i conti con una situazione di disagio, spiega Molteni. Mi trovo all'interno di un gruppo consigliare dove vediamo le cose in maniera diversa. Vorrei poter passare il resto degli anni del mandato da consigliera a parlare di tematiche più ampie, aggiunge. Purtroppo però con i miei colleghi, in riferimento ai due consiglieri comunali in quota Fratelli d'Italia, rispettivamente Lorenzo Cantaluppi e Antonio Tufano, abbiamo visioni diverse ed io ho difficoltà a riconoscermi in questo percorso. Nel gruppo misto potrò essere più autonomo nel prendere le decisioni, conclude l'ex candidato sindaco. Voglio stare in un gruppo in cui riesca ad esprimere serenamente concetti e idee, cosa che oggi non riesca a fare. Infine Molteni dice, parlerò della questione in consiglio comunale, poi ufficializzerò il passaggio da Fratelli d'Italia al gruppo misto. Grazie a tutti.